Monza Camper presenta il Challenger Mageo 387GA Special Edition, un semi integrale del 2018. Questo camper ti dà il piacere di dormire in autonomia con gli spaziosi e confortevoli letti gemelli. Ti permette di preparare le ricette sul posto grazie a un'ampia cucina a tre fuochi. Non vorrai mai smettere di raccontare le avventure della tua giornata nella spaziosa ed accogliente di NET. Ogni periodo dell'anno sarà un piacere trascorralo nel tuo camper grazie alla Truma Combi 600 alimentata a gasolio e all'aria condizionata sia in cabina che in cellula. Le tue avventure non avranno limiti grazie al capiente garage con doppio portellone. Challenger Mageo 387GA Special Edition. Il semi integrale che stavi cercando è a Monza Camper. Più liberi, più felici.